Oh mio dio, oh mio dio l'enderman gigante, il mostro gigante, il creeper gigante, la pecora fa stra paura però Che cosa stai facendo tu, scusa? Guardate il creeper gigante, no ma se esplode, voglio provare a farlo esplodere Ciao a tutti ragazzi, sono Kendale e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Oggi mi trovo all'interno di un mondo maledetto perché nello scorso video avete superato i 10.000 mi piace E tutti quanti mi avete detto Kendale ti prego continua la serie dei mondi maledetti perché è veramente troppo bella E quindi ci troviamo in un mondo molto strano con le porte messe male No vabbè queste non fanno parte del mondo maledetto però ragazzi oggi vedremo i mostri più giganti e grandi di Minecraft Infatti in questo mondo tutto quanto è gigante, tranne noi e le costruzioni Ecco qua per esempio possiamo ben notare un bella faccia gigante Oh mio dio avete mai visto un pollo così gra... ciao pollo Sento uno scheletro, oh cavolo Oltre queste mura c'è uno scheletro ragazzi, dobbiamo fare attenzione Allora io oggi voglio assolutamente combattere l'Ender Dragon Ma quella è una pecora, ma quella è una pecora Questa è una pecora, questa è una pecora gigante Ecco la pecora gigante, salve pecora gigante Non ci fosse... oddio lo zappi! No 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 no, enorme Ragazzi lasciate tanti ben mi piace perché come vi dicevo oggi voglio provare a combattere l'Ender Dragon in questo mondo Eh ma qual è una mucca piccola? Ma scusa? Ma tu... perché sei piccola tu? Tu dovresti essere gigante come il pollo e come tutti gli altri Beh non è proprio piccolissima però non è enorme Forse è una baby mucca Sì 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 forse è una baby mucca Ok abbiamo già visto... no non è una baby mucca perché come vedete là c'è una baby pecora che è enorme E due volte quanto me praticamente Abbiamo già visto i mostri, gli zombie E... no 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 un baby zombie Un baby zombie velocissimo Cavolo 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 scappa Quindi come vi dicevo oggi voglio provare a uccidere l'Ender Dragon in questo... Ah un raggio gigante! No 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 Aspettate Allora io voglio... voglio provare a uccidere l'Ender Dragon Però non credo sia possibile ucciderlo così perché non ho equipaggiamento Non ho nulla Quindi andremo in creativa, cercheremo il portale E poi proveremo a ucciderlo Anche perché non ho mai ucciso l'Ender Dragon in Minecraft Bedrock Edition Tanto ragazzi a nessuno interessa vedere queste cose giusto? Tutti volete vedere il boss, il capo di Minecraft Beh in effetti devo dire la verità che questo qua fa piuttosto paura Oppure sapete cosa? Prendiamoci intanto un po' d'armatura Non esageriamo eh, roba in ferro Quindi ci prendiamo una spada in ferro, un po' di frecce Come avete sicuramente capito tutti quanti questo non è un video sopravvivenza Dove sopravvivo al mondo maledetto Bensì un video dove vi voglio fare vedere appunto che questo mondo ha i mostri giganti E voglio provare a vedere anche l'Ender Dragon Ovviamente per vedere l'Ender Dragon devo andare in creativa perché altrimenti ci metto 100 anni Per arrivare a trovare il portale Beh se non altro non sembrano più forti dei mostri normali Sono grandi, enormi, però sono abbastanza deboli No vabbè ragazzi guardate quel ragno gigante sulla casa Fa stra paura Allora facciamo che mettiamo giorno Ah ecco bruciate Ma come faccio ad uscire io da queste mura? Ci deve essere un'uscita Ah ecco l'uscita, perfetto No vabbè ragazzi I ragni giganti fanno troppa paura Cioè per chi è arachnofobico questo qua è un incubo È proprio un incubo Guardate quello con l'elmetto gigante Chissà se lo droppa E chissà se lo droppa se esce poi gigante Oh mio dio Oh mio dio l'enderman gigante Il mostro gigante, il creeper gigante La pecora fa stra paura però Che cosa stai facendo tu scusa? Guardate il creeper gigante No ma se esplode Voglio provare a farlo esplodere Eh mi ha ucciso Ok forse è un po' più forte del normale Ma dai ma non è possibile Non pensavo che mi avrebbe ucciso L'enderman gigante ragazzi fa paura Ma io non so immaginare l'ender dragon gigante Cioè l'ender dragon sarà qualcosa di spaventoso Guardate che botto che ha fatto Allora voglio tornare in creativa Per spawnare alcuni mostri Per esempio Vediamo la strega Voglio vedere la strega gigante ragazzi Oh mamma mia Oh mamma mia la strega gigante No vabbè guardate che bello Si vedono tutti i dettagli Ah ma c'è un coso sul naso Non l'avevo mai notato sta roba C'è tipo il porro Che schifo Muori strega Vai via Non ti vuole nessuno Il wither Aspetta 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 Calmi 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 Ragazzi cosa succede? Cosa succede se provo a spawnare il wither? Questo è Bad Rock Edition Non so se si può spawnare Penso di sì Comunque proviamoci Oh mamma mia Eh Beh è grande ma non è super gigante Ma che sta facendo? Sta pogando con la testa Sta pal... Oh cavolo Ok no è grande È decisamente grande È molto più grande del wither normale Ok come faccio ora a ucciderlo? Ci metterò una vita No 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 sto distruggendo tutto Il mio amato castello Ma cosa? Ma sta fermo Wither Vabbè Sapete cosa? Io voglio assolutamente vedere l'ender dragon E voglio provare a ucciderlo Allora prendiamo subito il portale Poi prendiamo l'occhio dell'end Come vi dicevo ragazzi Questo non è un video sopravvivenza Bensì un video dove vi faccio vedere appunto questo mondo Ed è per questo che sto giocando in creativa Altrimenti ci metterei veramente troppo Ok così Poi così Quanto grande sarà? No che è non va Ehi Perché non va? Dovrebbe andare Che... Cosa ho sbagliato? Uno due tre Un due tre Un due tre Un due tre Oh ok adesso è andato Ragazzi auguratemi buona fortuna Perché adesso andremo a combattere contro l'ender dragon Gigante Però lo voglio combattere in sopravvivenza Boom Ok Oh cavolo ragazzi Guardate gli enderman giganti Fanno stra paura Fanno troppa paura ragazzi Non ho mai visto niente del genere in tutta la mia vita Cerchiamo di stare attenti Perché ci troviamo pur sempre nel land Il posto più pericoloso di minecraft E non solo questo è il posto più pericoloso di minecraft Adesso tutti i mostri sono giganti Guardate c'è un enderman gigante che mi passa sotto Oh mio dio l'enderman gigante ragazzi Facciamo attenzione Facciamo attenzione Ok Cerchiamo di stare attenti Vedo le ali dell'ender dragon Enorme Mamma mia Ok Cerchiamo di rompere tutte le sue torrette Guardate quanto è grande ragazzi No non ci posso credere Non ho mai combattuto l'ender dragon Ma non riesco Oh ok perfetto Dicevano non ho mai combattuto l'ender dragon In minecraft bedrock edition Quindi non ho idea di quanto sia difficile Ma è gigante Non riesco a rompere le torrette È difficilissimo mirarci Ma dove devo sparare Aia 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 Mi ha colpito Mi ha colpito No 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 Fermi 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 Non lo fate arrabbiare Non lo fate arrabbiare Ma anche le mie frecce sono giganti Guardate Quella freccia è gigante Aspettate 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 Voglio salire sopra Voglio vedere la freccia gigante No ma questo mondo è fantastico Questo mondo è fantastico Ma anche le torri sono più grandi per caso Ci sto mettendo una via Guardate la freccia gigante Ma perché la freccia gigante Ok ce l'ho fatta Mi sa ragazzi che mi conviene Ucciderlo in creativa Ok Non ci riuscirò mai in survival Mi devo mettere in creativo per forza Guardate quanto è grosso l'ender dragon In questo mondo Oh mamma mia Fa paura Ok rompiamo le torrette Via Via Chissà se dà più exp Secondo me dà più exp È gigante Quindi perché no Via Via E via Ok adesso che non ha più le torrette Proviamo a ucciderlo Sì vabbè ma come faccio a prenderlo Ma scusa Guardate Le frecce lo trapassano Oh cavolo Oh no 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 Si è arrabbiato Si è arrabbiato? No non si è arrabbiato Ma non riesco neanche ad attaccarlo Ok ce lo faccio Vai 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 Prendi questo Prendi questo Stupido schifoso gigante Eh a chi pensi di far paura? Dove scappi? Dove vai? Torna subito qua ho detto Ma chi è che mi attacca? Ma che cavolo? No 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 È un enderman gigante Un enderman gigante mi sta attaccando Aiuto No no Dov'è? Dov'è? Aia No 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 Vabbè cosa sta succedendo ragazzi? Ma che ti ho fatto? Non ti ho neanche attaccato io Vai via Allora lui non può rigenerare Ma chi è che mi attacca? Ma la smettete? Ma perché gli enderman mi stanno attaccando? Cioè è impossibile No 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 Dove sono? Devo per forza combattere in terza persona ragazzi Perché Sono troppo grossi E non riesco Non riesco a vederli Altrimenti No ci muoio Ci muoio Non può essere Mangiamola me la d'oro Sì mi sta attaccando Ma che cavolo vogliono? Ma ce l'ho andato con me? Mi lasci stare Eh? Enderman gigante Che tanto sei grosso Prenditelo con quelli della tua taglia Bene il drago è bloccato qua da praticamente mezz'ora E non si sa il perché Però io a questo punto ne approfitto E continuo ad attaccarlo Muori No ok sta volando È maestoso ragazzi È troppo bello Oh cavolo Che sto facendo? Con le frecce non riesco a prenderlo Perché è talmente grande Che non conosco i suoi hitbox Ti faccio al forno con patate Lo so che in realtà sto barando ragazzi Perché comunque Tutte queste cose io le ho prese in creativa Però non ho di certo il tempo Di equipaggiarmi Per ammazzare un drago gigante In questo mondo Oh cavolo Ok l'ho preso Dai 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 Manca poco Manca poco C'è uno sputo di vita Non mi attaccare Ok Altre due spadate È morto Guardate ragazzi La distruzione Dell'ender dragon gigante Oh mio dio Ce l'ho fatta Chissà se mi da più exp Secondo me mi ha dato tantissimo Ma dov'è? Ma no è caduta tutta qua dentro l'exp Oh È la mia exp Ma non è possibile Ehi ciao enderman gigante Io me ne vado E abbiamo finito Minecraft In versione Gigantesca Ok vediamo La mia exp Si sarà teletrasportata All'esterno del portale Giusto? In qualche modo Devo riottenerla no? Costruzione del terreno È da mezz'ora Che mi dice Costruzione del terreno Ti muovi Oh Dove sono? Su una finestra Oh mio dio Il creeper gigante Io ragazzi Non mi abituerò mai A questo mondo È veramente troppo strambo Mi raccomando ragazzi Lasciate un bel mi piace Se vi è piaciuto Ah me l'ha data l'exp Ho visto? Ho 40 livelli Dal vostro candle è tutto Iscrivetevi al mio canale Se non l'avete ancora fatto C'è ancora il Wither? Vabbè Noi lo ignoriamo E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao